Maestro che spombata ah madonna che modoretto che modoretto sta moda faccio il venuto sopra grande ceppo maestro come si comporta l'allievo? no vai troppo forte si rallenta un po' no ma sto parlando seriamente a me piace la teoria mia la teoria non lo so qual è la teoria tua? la teoria di mezzo è come i frighieri ovvero i mezzo sono come i bambini da bambino questo già glielo KTM 250 allora i mezzo deve fare KTM 250 no non lo so ma che è venuto su come un celletto la teoria di mezzo è venuto su la teoria di mezzo è venuto su la teoria di mezzo è venuto su come un celletto la teoria di mezzo è venuto la teoria di mezzo è venuto su la teoria di mezzo la teoria di mezzo è venuto su